Un pensionato settantottenne è stato drogato e rapinato di gioielli e preziosi per oltre 30.000 euro. L'uomo è stato pure malmenato nella sua abitazione a Lappio da una donna straniera. L'aggressione risale allo scorso 24 maggio. L'anziano aveva conosciuto la ragazza su un sito d'appuntamenti, i due avevano chattato per un po', poi si erano accordati per un incontro a casa del settantottenne. Quando l'uomo però ha aperto la porta è iniziato l'incubo. L'anziano infatti sarebbe stato prima narcotizzato ma la droga non avrebbe sortito gli effetti sperati. Per questo la ragazza l'ha aggredito con calce e pugni facendolo finire in terra con insetto nasale fratturato. Dopo l'aggressione la rapinatrice è fuggita portando via gioielli e argenteria per un valore d'oltre 30.000 euro. L'uomo invece dopo essersi recato in ospedale dove è stato medicato con 15 giorni di proniosi si è rivolto a commissariato appio per sporgere denuncia. Agli agenti ha provato a fornire un'identichitta della persona che lo aveva aggredito, una donna di circa 30-40 anni d'origine africana. Ora gli inquirenti sono a caccia di questa malvivente e di eventuali complici.